ben tornati ragazzi siamo io qua su Tomb Raider con il nuovo episodio tanto che non registro questo fantastico gioco quindi oggi quindi giochiamoci non mi ricordo più cosa dovevamo fare dovevamo andare ma vorrei scoprire un presto spero e niente ragazzi sono rovine antecedenti all'epoca a Kofun solicità se dice lei Kofun antecedenti ragazzi comunque ragazzi ho una sorpresina per voi un pellegrinaggio sto dicendo ho una sorpresina per voi oggi oggi cos'è domenica oggi che sto registrando in domenica quando vedete voi non so chi non sarà ma credo lunedì credo si vuole un po' probabilmente lunedì sarà incredibile quindi lunedì oggi però sia questo video che un altro è un nuovo gioco però quindi oh mio dio ragazzi eh beh eh beh meno male perfetto ti hai dato fin troppi problemi ragazzina ma per fortuna sei ingenua e prevencola oh mio dio oh mio dio nooo ma star oh mio dio i guardiani i guadiani i guadiani i guadiani i guadiani mamma mia ragazzi che garanti la classe fantastica porca aia quello facciamo male ok ragazzi stavo dicendo oggi registrerò ehm sia questo che sto registrando ovviamente che uscirà molto probabilmente lunedì poi forse uscirà no non uscirà bene pure dopo di questo non uscirà Deadpool ma uscirà un nuovo il nuovo il nuovo gioco e non vi anticipo niente ragazzi però è molto figo dovevo giocarci da tanto e finalmente ci sono riuscito e dai questa donna alleluia ah che male cioè ma tutte le botte che ha preso lei dovrebbe essere tipo ferma per anni e anni boh ma deve avere 8.000 libidi su tutto il corpo cosa sta succedendo? eh non lo so ma il tipo è morto sono morti parecchi qua non solo lui dai dai bel posto allegro si però non vi è uscito oddio 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 veloce cosa è stato? non mi è oddio 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 oh si è rimbaldato tutto boh che schiva il test è che rado le mezze le gambe della donna cos'è stato tutto questo nostro? ci sta guardando in questa direzione non ho noto niente perfetto oh mio dio ragazzi farò gameplay di 15 minuti l'uno cioè tutti quanti faranno non ho molto tempo in questi giorni visto che inizia la scuola mi stanno già in più di compiti quindi devo farli e quindi farò massimo di 15 minuti io come scorrere non lo so però andiamo inizioni ah si ci abbiamo catturato qui non abbiamo nessuna arma magnifica che ovviamente non ci hanno tolto fuori loro adesso ovviamente non corre perché ci ha male e ci mancherebbe altro ah guarda qua la arma ragazzi oh mio dio quanto sei brutto spero funzioni ancora fucile da trincera si funziona ancora ho sentito un rumore mamma mia pensano i guardiani vediamoci il ritorno prima che ammazzino anche noi scappa scappa mi stanno cercando male questo questo è male ebla brava brava aspettate voglio vedere solo ah non ci credo in quella risoluzione si vede così bene ma quando questo è un dilemma odio le tombe e tu sei un'archeologa e tu sei un'archeologa ti devi esplorare la guardia donante possibile che quello di prima ah inimico la prima regina del sole questo è il Yamatai alleluia la buonora ragazzi l'ha capito la forza brutta di Lara Craft e questa è lei che bello Lara Craft più bello di Lara Craft Lara Craft Lara Craft Lara Craft basta dire cazzate ah ragazzi sono tentato di comprare GTA 5 molto molto tentato e forse domani lo compro ma non è quella la sorpresa del video è un altro molto figo che quello orribile molto bello anche quello perché le donne venivano messi non lo so adesso devo pensare devo pensare un viaggio perché un migrinaggio se lo compro che sia questo monastero GTA 5 intendo non posso fare i video comunque perché non ho la vermedia tutta la leva e quindi devo aspettare rieccoti regina aspetta un attimo no non sta versando acqua sta cedendo il potere è un rito di successione una cerimonia che incorona la nuova regina bravo la giù oh no non che cosa era oh mio dio forse è un po' troppo alto morirai più non è che senso guarda si non è ma forse ti faccio vedere io Mamma mia che pingo ragazzi Ok quindi Si ma noi non abbiamo Ah si ce l'abbiamo l'arco Aspettate un attimo Oh ma ce l'abbiamo le armi E allora avevamo il senso Cosa è stato Non lo so ma ci sono dato il culo per adesso No cosa stai facendo Ho sbagliato No no Il sto di tutto Ora dobbiamo arrivare In 6 minuti dobbiamo arrivare a un punto di salvataggio Perché se no Ok Come non detto Non è un cazzo però Prima la trattatura Prima la trattatura presto non ci danno ci danno ci danno non abbiamo molto tempo Potenzialmente E' fatto tutto Potenziamo questa cosa qua Allora Struttura piena Però adesso si Presto presto Non è arrivare in fretta e furia Non è che venti Si vabbè Mi fai giù per me Oh mio dio che bello Stavamo per morire Meno male che lei c'è riflessi produttissimi Allora E' molto brava E' molto brava Cioè non è che venti Ma che cazzo ti ha fatto fare Io c'ho qua a quest'isola Ma poi come fai a esserci così tanto venti a quest'isola Io non capisco Mamma mia Un legno che vola in tutte le parti Poi ovviamente la sfida più totale è che Per anni anni Ha resistito Arriviamo noi dobbiamo passare sul cazzo di ponte e ovviamente si rotto Eh beh Ovviamente Solta mamma mia Il bando più totale tipo Adesso Non è stato lì Mamma mia Vai vai su presto 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 Oh my God Boo Che culo è cuore Di cosa parte vai Venga Il quale apriarsi Stai da perdere Ci tocca raccondarla Eh lei No dai No Sta a continuare Ah finalmente Sta a continuare Stai a continuare Oddio Lo abbiamo a scuola ci abbiamo appoggiato in testa headshot ok prendi i materiali e poi fai oh mamma mia ok poveracci non l'hanno vista noi l'abbiamo vista io veramente non l'ho vista ma credo che sia oddio io l'ho petto nooo vabbè era per prendere i materiali ragazzi era tutto calcolato ma in realtà era anche per prendere questo ricarica staff ma tutta la ma tutta la si dice eh vabbè avete capito no? ok guarda calma ora bisogna fare così bisogna fare bisogna aprire questi velocità luce ok guardate bene guardate bene guardate bene guardate bene guardate dentro guardate prende 1,2,3 tira ragazzi oggi Ah, comunque mi basterebbe prendere solo live e media per fare i video su GTA V, poiché Nord e Silvio si è recuperato, quindi non mi sembra il caso, anche perché non voglio un tipo, guarda, GTA V, faccio il pazzeggio tutt'altro. Ora, 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 facciamo un po' le pazzeggio, ora, apri il po' le pazzeggio, oh no, oddio, mamma mia, c'è quello. non è morto 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 no 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 si frega con la pitra che faccia aia c'è anche il dibo questo faceva male oddio ragazzi stiamo morendo morirai di dio non è morto non è morto non è morto non è morto cosa è successo oh mio dio no bug totale ragazzi non so cosa mi è successo ma ho arrivato tutto per esempio tomb rider ho riapporto il tomb rider ho riapporto tutto e sono preso da qua ok non è morto ok il tunnel dice che non ci sono più io ho scoperto ah mi è entrato tu l'arco mi è morto va 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 allora adesso non ricordo a memoria questo gioco abbiamo già giocato una volta quindi abbiamo disinstallato adesso ah ma già è stupendo questo bellissimo dobbiamo fare un seguito dobbiamo continuare su questa direzione no ma si può rimanere 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 eh vabbè corri 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 questo mamma mia che casino ammolentatore mamma mia vai stai mi ha preso questo gioco è la fine di resistenza moderna alla fine di resistenza alla fine di resistenza alla fine di resistenza alla fine di resistenza oh di epic fail porco 2 abbiamo sbagliato a saltare cioè io continuavo a saltare sono salto pa pa ragazzi scusate ok quindi ora riportiamo il tipo che vola guarda oh adesso deve volare quindi deve volare quindi deve volare ok vediamo come va noi ora non saltiamo veramente ma saltiamo su ovviamente noi ci saltiamo sopra e si rompe tutto oh mi spara tutto tanto mi spara tutto quanto mi spara tutto quanto ok ragazzi dovrebbe essere finito vado nell'acqua ovviamente magari c'erano tipo delle pietre appuntite no acqua perchè lei è fortunata così no perchè ha fatto l'acqua da passare il volume via giù allora vedo se c'è il video se qui ovviamente non c'è l'arco vabbè ah mamma mia molti di noi sarebbero già morti a questo punto della storia pronto e la radio funziona ancora Sam pronto Sam sono Lara oh oh Lara che bello sentire la tua voce anche la tua Sam gli altri sono con te no ho rubato questa radio a una guardia una guardia una guardia mi hanno ravita cosa dove ti trovi non lo so sembra un vecchio palazzo già buonissimi parlando di una prova del fuoco Lara ho una paura matta una paura matta non lo so non lo so Sam Sam una prova del fuoco come raffigurato in una tomba di me bravo intuizione ok ragazzi no mi senti? no sto andando al palazzo gli altri sono tenuti lì ti raggiungo così entri a mission grazie finirà mai? ci c'erano? ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto domani quindi lui di voi dimmi scusate ci stanno vedendo lui di questo no scusate cos'erano quelle creature nel monastero? indossavano le stesse uniformi della guardia donante ed emettevano suoni disumani senti come parli Lara sembri tuo padre si direbbero i superstiti di un'antica civiltà perduta ok ora sono proprio mio padre l'unica certezza è che hanno ucciso quella gente e sono convinta che non esiterebbero a uccidere anche me però ora non devo pensarci Sam è in pericolo e devo salvarla al più presto lei conta su di me ok dopo questo piccolo diario di Lara infatti come potremmo vedere se usciamo ci sarà scritto è caputo 5-10 diario su Lara allora ragazzi domani uscirà quella sorpresina cioè quindi martedì spero di riuscire a farmi uscire la registro adesso che è domenica quindi dovrei riuscire a montarla in tempo lunedì cioè domani per me uscirà questo video non perdetevelo commentate iscrivetevi spero vi piaccia lasciate un bellissimo like e ci vediamo al prossimo video bye bye